Ciao a tutti ragazzi e bentornati su questo canale. Il tema che vorrei affrontare oggi è molto semplice. Fare il saluto fascista è reato? La risposta non è né sì né no, dipende. Dipende dalla situazione in cui viene fatto il saluto romano e da come viene fatto e con quali finalità viene fatto questo saluto. Quindi affrontiamo questo tema e cerchiamo di capire quando è effettivamente reato e quando non lo è. Affrontare questo tema è molto importante perché spesso vediamo delle manifestazioni di commemorazione di membri che erano molto importanti per quello che è appunto il disciolto partito fascista che vengono appunto commemorati e ricordati dagli attuali militanti sostanzialmente del fronte della gioventù. E quando ci sono queste commemorazioni assistiamo sostanzialmente a due poli opposti. Chi dice sostanzialmente che è reato e che non deve essere fatto assolutamente mai e chi dice no ma cosa vuoi che sia non vogliamo ricostituire il partito fascista. Ma entrambe queste teorie sono leggermente sbagliate. Diciamo che la teoria giusta è quella che sta nel mezzo in questo caso quindi dipende. Questo dipende perché molto spesso le sentenze avvengono sui social quindi le condanne avvengono sui social o al massimo sui giornali con degli articoli che spiegano per come per qual motivo facendo delle varie interviste cosa succede. Ma spesso a queste sentenze social arrivano anche le sentenze effettive. Infatti nel 2016 dopo la commemorazione in onore di Sergio Ramelli si è verificata proprio questa situazione cioè che si è passati dalla sentenza social alla sentenza vera e propria nelle aule di tribunale. In quel caso tra gli esponenti che finirono a processo c'erano appunto gli esponenti più importanti diciamo del fascismo milanese come Stefano Miglio che era il leader di Lealte e Azione e Duilio Canu che era l'ex di Forza Nuova e ora presidente del movimento nazionale La Rete dei Patrioti. Nel processo di primo grado gli imbutati erano stati assolti mentre in secondo grado il giudice aveva stabilito una pena di due mesi di reclusione e una multa di 200 euro. La differenza tra il giudizio di primo grado e di secondo grado non è dato dalla presenza di nuove prove, presentazioni di nuove prove, di nuovi testimoni o quant'altro ma semplicemente da una diversa interpretazione dei fatti effettivi. Questo perché l'ipotesi di reato appunto si basa sulla presenza di filmati e fotografie e delle relazioni fatte dalle forze di polizia. Il fatto quindi è quello ed è acclarato tra tante persone presenti che hanno fatto il saluto romano e ne sono state individuate otto. C'è appunto cambia l'interpretazione di quell'azione che porta il giudice a dire appunto che è un reato e che va punito oppure che non vanno puniti queste otto persone. Quindi soprattutto il disclaimer si basa su due fattori principali. Prima di tutto il fatto che non esista una norma specifica che vieta di fare quello specifico saluto quello con il braccio destro alzato e teso. Quindi non c'è una sanzione effettiva per chi fa quel saluto. Esistono però due leggi che riguardano quel saluto e la cerimonia del presente che sono la legge Scelba e la legge Mancino. Adesso le analizziamo un po' più del dettaglio. La legge Scelba ha introdotto nel nostro ordinamento la disposizione transitoria della nostra Costituzione, quindi la dodicesima disposizione transitoria che prevede un divieto ben specifico. La norma infatti ci dice che la riorganizzazione del 18 partito fascista e il seguente perseguimento di finalità antidemocratiche con esaltazione della violenza e della soppressione della libertà garantite dalla Costituzione sono vietate. L'esaltazione di esponenti di principi, di fatti e metodi propri del predetto partito o comunque manifestazioni che sanciscono appunto il loro carattere fascista sono comunque vietate. Quindi c'è un divieto generale su queste condotte in un certo senso. La legge Scelba ha introdotto anche una sanzione per chi commette questo tipo di atti definiti appunto come apologia di fascismo. Infatti punisce chiunque fa propaganda per la costituzione di un'associazione, di un movimento, di un gruppo avente le caratteristiche e che persegue le stesse finalità del partito fascista. Ed è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Quindi urlare delle frasi come Evviva le camicie nere oppure Evviva Mussolini va a contrastare con la legge Scelba. Quindi può costituire reato. La Corte Costituzionale però è intervenuta molto spesso negli anni per limitare i poteri, diciamo, della legge Scelba e il suo ambito di applicazione ponendo appunto dei confini. I divieti infatti posti da queste norme potrebbero entrare in contrasto secondo la Corte stessa con le libertà sancite dalla Costituzione come quella di libertà di pensiero e libertà di associazione. Nel 1958 la Corte Costituzionale si era espressa sul saluto fascista e sull'urlare degli slogan ed intonare dei canti. Infatti la Corte ci aveva detto che queste attività, questi atti potevano essere idonei a provocare la diffusione delle concezioni favorevoli alla ricostruzione del fascismo. Nello specifico in quella sentenza si stabilì che una commemorazione funebre non costituiva un atto favorevole alla ricostituzione del fascismo. Ed è questo il discrimen che rende queste condotte non sempre punite. Questo perché molto spesso queste condotte appunto vengono fatte durante un funerale o comunque durante una commemorazione. Infatti ad esempio a Pari era stato fatto il saluto fascista nel 2016 durante un funerale e gli imputati che erano stati denunciati non sono stati condannati dal giudice appunto perché il giudice aveva ritenuto che il defunto che era morto da poco avrebbe apprezzato quel saluto che era sostanzialmente quindi una forma di commemorazione che non c'era un intento di diffondere delle ideologie basate sul latoio raziale o comunque di diffondere delle idee di ricostituire il partito fascista. Dopo la legge Scelva però dobbiamo trattare anche della legge Mancino del 1993. La legge Mancino voleva essere abrogata dalla Lega nel 2014 che aveva proposto un referendum per abolire la legge Mancino ma non aveva mai raccolto le firme sufficienti per far passare appunto il referendum abrogativo. La legge Mancino prevede infatti la reclusione fino ad un anno e sei mesi o la multa fino a 6.000 euro per chi propaganda idee fondate appunto sulla superiorità e sull'odio raziale o etnico ovvero istiga a commettere o commette gli stessi dei reati di discriminazione degli atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e la reclusione da sei mesi a quattro anni di chi in qualsiasi modo incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali appunto etnici, nazionali o religiosi. Fu proprio in base a questa norma che furono condannate nel 2017 sette persone insieme a Tecini e di altri che misero in atto la cerimonia del presente quindi si urla, viene urlato un nome e queste persone che sono intorno urlano presente appunto facendo il saluto romano. Questo fatto si era verificato al cimitero monumentale di Milano per ricordare quelli che erano stati definiti i martiri della rivoluzione fascista. Nelle motivazioni della sentenza di condanna che andava a confermare la sentenza di primo grado e di secondo grado della Corte di Cassazione la Corte di Cassazione disse appunto che in quel caso erano presenti tutti gli elementi che la giurisprudenza e che il diritto richiedeva per applicare quella norma. Cioè c'era il concreto pericolo che gli usi fascisti che erano stati ostentati nel corso della manifestazione e della commemorazione potessero indurre e favorire la diffusione di un'ideologia fascista o nazista comunque fondata sulla superiorità e sull'odio razziale ed etnico. Uno dei condannati disse appunto che non c'era nessun tipo di collogamento tra la propaganda e una commemorazione fatta appunto al cimitero monumentale di Milano. La sua giustificazione era appunto che il saluto romano era stato fatto su delle lapidi di chi quel gesto lo avrebbe sicuramente apprezzato. La stessa giustificazione che aveva dato appunto il giudice nel caso di Bari. Però in questo caso perché il giudice non ha deciso nello stesso modo? Il giudice non ha scelto nello stesso modo soprattutto per la condotta perché la condotta per essere punita deve essere idonea a provocare adesioni e concezzi e a diffondere appunto quelle concezioni che sono favorevole alla ricostituzione di organizzazioni fasciste. Queste condotte quindi devono essere un concreto pericolo di diffusione di quelle idee basate sulla supremazia etnica e sull'odio razziale. Quindi in quel caso si poteva applicare la legge Scelva e la legge Mancino mentre nel caso appunto ad esempio di Bari non si poteva applicare. Ed è questo il discrimen che deve essere fatto su ogni singolo caso che prevede appunto il saluto fascista e in cui veniamo sempre tutta l'indignazione generale per queste condotte e la nera giustificazione da parte di chi l'ha fatto o comunque degli amici di quelle persone dicendo era solo una banale commemorazione. Queste condotte vanno distinte perché dire sempre solamente è una commemorazione significa che queste condotte a lungo termine potrebbero ricreare questi partiti o queste associazioni che abbiamo faticato a debellare. Spero che questo video vi sia stato utile per capire diciamo le differenze e le motivazioni che si nascondono dietro decisioni apparentemente contrastanti delle corti e ci vediamo al prossimo video.